Tra poco, Dog with a Blog a Disney Channel Al di là dell'oceano, esiste un continente dalle incredibili ricchezze e opportunità. Un luogo ancora sconosciuto, dove il potere della natura è sconfinato e la battaglia per la sopravvivenza comincia appena nati. Un imperdibile evento televisivo in sette episodi. Nord America, una nuova serie. Ogni domenica alle 22.55 su Discovery Channel. Ciao, sono Francesca Capaldi di Dog with a Blog e state guardando Disney Channel. Fantastico! Dal 23 giugno! Qualcuno ha chiamato una strega a domicilio? Ah, è tornata Sabrina. Abbiamo ciò di cui avete bisogno. Adesso entra in scena la strega. Con la nuova serie Sabrina Vita da Strega. Combiniamo qualche pasticcio. Ogni volta che le forze del male ricomplicano la vita, lei ha sempre l'incantesimo giusto per farle scomparire. Lontano del mio amico! La nuova serie Sabrina Vita da Strega. Dal 23 giugno alle 13.35 a Disney Channel. Cosa succederà nei nuovi episodi di Kata e i misteri della sfera? Io volevo cantare con te. E io voglio che mi lasci in pace, Damiano. Emi riuscirà a riconquistare Damiana? Cosa cambierà con l'arrivo di Aldana? Adriana e Leo sono davvero al sicuro. Per quanto tempo Kata e Camillo fingeranno di stare insieme? Non ti credo! Scopritelo nei nuovi episodi di Kata e i misteri della sfera. Dal lunedì al venerdì alle 20.10 in replica alle 14 a Disney Channel. Ciao, sono Ross Lynch di Austin e Ellie e state guardando Disney Channel. Boom, ragazzi! Venerdì! Ecco un breve assaggio della prima puntata della nuova serie Non sono stato io! Lindy, Logan, voi e i vostri amici avete dato una festa mentre eravamo via? Avete la minima idea di quanto siamo arrabbiati! Forse una pizza potrebbe aiutare? Sapete, è inutile che io resti qui. Mi sembra più una questione di famiglia. Oh, può diventarlo anche per te, Jasmine. Ho il numero dei tuoi in memoria. Adoro sentirmi in famiglia. Dobbiamo parlare della festa. E del mio divano rovinato. E della capra che sta mangiando il vestito da sposa di vostra madre. Ma soprattutto dove avete messo la babysitter 91N che doveva badare a voi? Che avete fatto alla signora Clasby? Ah, non sono stata io! Non sono stato io! In Prima TV venerdì alle 19.15 a Disney Channel. It's 85 and sunny today in Pasadena. That's right, it's Christmas time.